Sono Roberto e faccio l'edicolante da circa 25 anni. Quanti quotidiani si vendono in media ogni giorno? Ogni giorno siamo calati parecchio, qui in questa zona siamo sulla cinquantina. Siete calati per i giornali online? Online, internet e quelle cose lì, sì. Da quanti anni hai notato questo calo? Calo direi negli ultimi 4-5 anni. Qual è il quotidiano di Bologna? Il quotidiano di Bologna è il Carlino. È un bel giornale? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Qual è il quotidiano più venduto? Più venduto qua a Bologna, diciamo che tra Repubblica e Carlino siamo lì, in quello stesso modo. Tra le riviste al femminile, mi puoi descrivere i titoli principali? I titoli principali è uscito F, che è un settimanale, poi è uscito Diva Donna, Anna, Gioia, Grazia, Tu. Ce ne sono abbastanza, sono aumentate parecchio negli ultimi anni. Le riviste sono calate di meno dei quotidiani come vendite? No, quelle diciamo che tengono ancora abbastanza il mercato. Che cos'altro si vende in un'edicola? In un'edicola si prova a vendere qualche altra cosa, più che altro articoli per turisti, tipo i gadget con le squadre, tipo il Bologna, adesso qui siamo a Bologna, il Bologna Football Club, poi c'è merce come la Juventus, il Milan, l'Inter, tipo bibite per chi può, souvenir, quelle cose lì. Si cerca di ampliare un po' la mercelogia. Qual è la cosa che ti piace di più nel tuo lavoro e quella invece più pesante? Lavoro che mi piace più, vedi la diversità della gente, conosci varie razze, diciamo, perché col turista è così. Quello che mi piace meno sono le ore che sono tante. Cioè tipo una tua giornata tipo di lavoro? Diciamo che noi come lavoro siamo sui 13 ore al giorno diviso due, quindi diciamo io e mia moglie a gestirla, quindi sono 6 ore e mezza a testa, quindi abbastanza. Grazie a tutti.